Hai visto il video su che cosa fare appena ti sei svegliato? Adesso ti faccio vedere che cosa devi fare prima di andare a letto. La temperatura del nostro corpo cala durante la notte, quindi è una buona idea aiutarla. Dormire senza vestiti e magari farà anche una bella doccia fresca la sera. Magnesio agisce come da piccolo ossidativo, aumenta la quantità della fase di sonno profondo ed aiuta le funzioni del fegato durante la notte. Un cucchiaio di miele crudo, in quanto aumenta i livelli di glucosio nel sangue e prima di andare a dormire è un'ottima cosa perché ci aiuta ad andare più velocemente nella fase di sonno profondo. Una bella camomilla, non me la dolcificare con lo zucchero e neanche con il miele perché il miele deve essere crudo e se non lo metti dentro la camomilla che è bollente non è più crudo. Sgombra la menta dalle preoccupazioni che hai avuto durante il giorno e quelle che verranno il giorno seguente. Quindi leggiti un bel libro.